Ok, ci siamo, benvenuti a questa diretta Facebook che adesso vediamo è la prima volta che utilizziamo questo canale quindi siamo un po' tutti impreparati, però ci vediamo, potete seguire questa diretta quindi sui repaggi di Facebook di coloro che interverranno, che li vedete qui nello schermo sono l'avvocato Maurizio Miranda, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, l'avvocato Gianni Malasca che è il presidente del Consiglio di Disciplina Distrittuale delle Marche e poi ci raggiungerà Antonio De Angelis che è il presidente dell'Aiga Nazionale. In questi giorni avete visto tutti quello che sta succedendo, è un periodo particolare, medici, infermieri e strutture sanitarie stanno facendo il possibile per cercare di sostenere e curare i nostri connazionali che sono stati colpiti da questo virus così importante e abbiamo cominciato a vedere che ci sono effettivamente delle situazioni di sciacallaggio mediatico. Prima arrivate da società che offrono servizi legali a pagamento e quindi sono società paralegali che come abbiamo avuto modo di dire con Aiga Nazionale non hanno nulla a che fare con gli studi professionali e adesso cominciano a fioccare degli interventi da parte di avvocati di singoli studi professionali che indicano la possibilità di fare causa a medici, infermieri o comunque esercenti da professione sanitaria senza per questioni legati direttamente o indirettamente al coronavirus. A noi del Consiglio dell'Ordine e sia come Aiga abbiamo contestato questa modalità di comunicazione, è vero che il diritto non va in vacanza in questo periodo, lo abbiamo visto anche per quanto riguarda le scelte del governo, c'è stato un ampio dibattito sui decreti, sulle misure e i propiedimenti, quindi diritto, ma la stessa razionalità delle persone non va in vacanza in questo periodo, ma riteniamo che ci siano modi corretti e modi che non sono assolutamente corretti di promuovere la nostra attività professionale nei confronti di altri professionisti che in questo periodo ci stanno mettendo anima e corpo e mettono a rischio i propri parenti, ma loro stessi rispetto alla possibilità di ricevere un contagio da parte di altri. Quindi non vogliamo demonizzare la comunicazione che indica, valorizza e promuove la professionalità degli avvocati perché in più occasioni con Gianni Marasca e Antonio Di Angelis abbiamo già affrontato il tema della comunicazione, del marketing e degli studi professionali, indicando che non è vietato fare un certo tipo di comunicazione, è vietato fare determinate modalità di comunicazione che possono arrivare all'accaparramento illegittimo della clientela e a una pubblicità che non è corretta a livello deontologico e sviliscono la figura professionale di tutta un'intera categoria. Per questo abbiamo deciso con l'ordine degli avvocati, laiga sezione di Ancona, di fare questa diretta proprio per ricordare quali sono i principi cardine del codice deontologico della nostra legge professionale forense e incentivare una corretta comunicazione da parte dei colleghi che hanno intenzione di promuovere la loro attività professionale in questo momento così particolare. Iniziando invito l'avvocato Maurizio Miranda quindi a prendere la parola, spero che il collegamento sia corretto per tutti coloro che ci ascoltano, ricordando che possono intervenire inviando dei messaggi direttamente su questo canale. Cercheremo di rispondere ai messaggi che ci vorrete inviare, prima dovremo capire come si fa, e quindi per alimentare questo dipattito. Maurizio ti lascio la parola. Sì, buonasera a tutti, momento abbastanza critico, abbastanza importante per tutti e ovviamente anche per l'avvocatura. L'importante è che noi siamo qui in questo momento a fare questo incontro, questo dibattito su queste tematiche che riguardano l'attività professionale, ci dà anche un po' un senso di normalità. Incominciamo a entrare subito nel vivo delle questioni, dopo, casomai se ci sovrapponiamo, se vado un po' fuori tema, casomai il moderatore mi fermerà. Partiamo innanzitutto dal titolo di questo incontro. Il titolo di questo incontro è «Dividito dal caparamento della clientela e informazione pubblicitaria corretta ai tempi del coronavirus». In realtà io vorrei dire subito una cosa, questa precisazione relativa ai tempi del coronavirus riguarda soltanto il momento storico che stiamo attraversando, ma non riguarda assolutamente alcuna modifica di quelli che sono i canoni deontologici ordinari, nel senso non è che siccome siamo in un periodo particolare, un periodo di emergenza, un periodo di pandemia, in qualche modo questo va a incidere, a modificare o a allentare quelli che sono i precetti del codice deontologico. Anzi, a maggior ragione in questo momento di difficoltà, laddove bisogna cercare di tenere la categoria unita in una certa direzione, che è quella di mantenere fermi i principi fondamentali che disciplinano la nostra attività professionale, i precetti deontologici devono essere interpretati in una maniera maggiormente rigorosa. Ricordiamoci questo, la deontologia professionale è quella che rappresenta l'ossatura disciplinare della nostra categoria professionale. Se noi possiamo avere qualche forma di rilievo e di importanza nell'ambito della società, lo possiamo fare soltanto laddove teniamo fede a questi principi. Nel senso, appartenere a una determinata categoria professionale di per sé non vuol dire nulla, se questa appartenenza non è fatta, non è portata avanti secondo le regole che la disciplinano. Soltanto applicando questi principi e quindi soltanto essendo competenti, bravi, preparati, ma soprattutto soltanto se svolgiamo la professione forense in maniera corretta sotto il profilo deontologico, possiamo far sì che la categoria professionale anche in questo momento possa brillare dal punto di vista della rilevanza che la stessa categoria ha nell'ambito della società. Se ci lasciamo andare a derive più o meno giustificate dalla difficoltà del momento, è chiaro che questa condotta non soltanto affossa, se mi permettete il termine, affossa l'attività del singolo, ma si riberbe in maniera negativa su tutta la categoria professionale. Tornando al tema del nostro discorso di oggi, proprio per questa motivazione il Consiglio dell'Ordine ha deciso di prendere posizione, come peraltro fatto anche da altri ordini, su questi esempi di società, di servizi o di consulenza, o comunque anche di singoli professionisti, che nel tentativo di trovare un filone professionale stanno lanciando dei messaggi, neanche troppo difficili, impossibili di equivocare questi messaggi, circa possibili azioni da intentare nei confronti del personale sanitario. Questa è veramente una cosa spiacevole che si pone in contrasto, sì con i precetti odontologici, ma secondo me anche con le regole più basilari e più comuni del vivere civile. Entrando nel dettaglio della questione, io direi che dobbiamo incominciare a dare una lettura a quella che è la norma di riferimento. La norma di riferimento è appunto l'articolo 37 del codice odontologico. L'articolo 37 contemple spessamente il divieto di accaparramento di clientela e è una norma, come spesso accade nel codice odontologico, che non ha una tipizzazione esaustiva, ma contiene delle clausole aperte proprio al fine di poter ricondurre nell'ambito del divieto una serie di condotte che non devono essere appunto predeterminate in maniera statica. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori, e questa è la parte della clausola aperta, o con modi non conformi a correttezza e decoro. Il comma 1 dell'articolo 37 fa espressamente riferimento alla correttezza e decoro quali parametri finalizzati appunto a valutare la correttezza delle modalità attraverso le quali l'avvocato acquisisce rapporti di clientela. Gli altri commi non riguardano specificatamente questa tematica, comunque leggiamoli per completezza. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi, quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi o professionali. Costituisce in frazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi, ovvero corrisponzione promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. È vietato offrire sia direttamente che per interposta persona le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e in generale in luoghi pubblici o aperti a pubblico. È altresì vietato all'avvocato offrire senza essere richiesto una prestazione personalizzata e cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. La violazione dei doveri quei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. È evidente, insomma, almeno a una lettura così superficiale, che la previsione della sanzione disciplinare della censura è una previsione abbastanza blanda, nel senso che la sanzione disciplinare alla censura è una sanzione comunque tutto sommato minore rispetto alle sanzioni più gravi che sono quelle che incitono in maniera diretta sullo svolgimento della professione forense, quindi la sospensione in primis. Comunque, come vedete, tornando alla lettura del comma 1, l'avvocato appunto non deve acquisire rapporti di clientele a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. Lasciando a un maggior approfondimento la questione della correttezza e decoro, soffermiamoci un attimo sulla questione relativa all'acquisizione di rapporti di clientele a mezzo di agenzie o procacciatori. Quello che si sta vedendo, e non soltanto in questo momento, ma insomma è un po' che si vedono società di servizi o società di consulenza che fanno pubblicità di possibili attività legali, di consulenza, che fanno sostanzialmente da collettore di clientela nei confronti di un professionista. Quindi la struttura che viene a crearsi è quella in cui c'è un soggetto che non è un soggetto professionista, quindi non è un soggetto che può esercitare la professione forense, ma è una società di servizi, qualunque sia poi la forma giuridica che essa riveste poco in porta, che funge appunto da collettore, da canalizzatore di clientela nei confronti dell'avvocato. Scusa Maurizio, c'è un attimo di Antonio De Angelis, il presidente del Lai Canale. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Mario e un saluto a Maurizio e a Gianni. Ciao, ciao Antonio. Già il fatto per l'avvocato di utilizzare questo strumento, cioè di far sì che una società di servizi o comunque un soggetto che si ponga quale intermediario tra il cliente e il professionista, già questo semplice fatto rientra a mio modo di vedere in una violazione dell'articolo 37 del codice deontologico. Quindi già di partenza sappiamo che il fatto che una società offra dei servizi legali, una società che non è una società tra professionisti, ma è una società di consulenza, abbiamo visto la società che sono collegate a compagnie di assicurazioni, quindi a grandi collettori economici, già questo fatto fa sì che l'avvocato si ponga in una posizione di contrasto con il codice deontologico. Un altro punto sembra a mio modo di vedere abbastanza interessante ed è rappresentato dalla previsione stessa del perimetro dell'attività professionale che è contemplato dalla legge 247 del 2012 che come voi ben sapete è la legge che disciplina da otto anni ormai con la riforma della professione forense e la legge che disciplina lo svolgimento dell'attività professionale. Noi abbiamo come dicevo prima sicuramente l'avvocato che si pone in contrasto con il codice deontologico nel momento in cui attraverso una società pubblicizza un'attività legale e utilizza appunto la società come collettore di clientela. Ma anche il semplice fatto di vedere questi spot pubblicitari o comunque questi messaggi pubblicitari dove si offrono consulenze alla generalità dei cittadini, quindi messaggi di carattere generale dove si offre attività consulenziale, a mio modo di vedere anche se non riguarda l'attività del singolo avvocato è comunque qualcosa che si pone in contrasto con il dato normativo. Il dato normativo di riferimento a mio avviso è l'articolo 2 della legge 247 del 2012 che appunto contempla la disciplina della professione di avvocato. Il comma 6 di quest'articolo 2 dice in maniera abbastanza chiara che fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti e altre professioni regolamentate l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato è di competenza degli avvocati. Allora questa norma è fondamentale nel panorama della nostra professione. Perché è una norma fondamentale? Perché è una norma che stabilisce in maniera più o meno chiara che l'attività di consulenza al pari dell'attività difensiva è attività professionale riservata all'avvocato. La legge fa ovviamente delle precisazioni che però non possono restringere in maniera significativa il perimetro di applicazione della legge stessa. Cioè abbiamo letto fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste quali riservati ad altre professioni e quindi sarebbero le ipotesi in cui un'altra fonte normativa stabilisce che una categoria professionale può svolgere quella determinata attività, l'attività professionale di consulenza legale connessa all'attività giurisdizionale è svolta in modo continuativo di competenza degli avvocati. Allora, è evidente che l'attività professionale di consulenza legale è ovviamente connessa ad un'attività giurisdizionale. Quando si dà un consiglio in materia di diritto e questo consiglio viene dato poi da un operatore economico, non dal vicino di casa che ha un'infarinatura o che ha visto una trasmissione televisiva, evidentemente l'attività di consulenza è connessa ad un'attività giurisdizionale futura da introdurre oppure da subire nel caso in cui si sia convenuti in un'azione. Quindi ritengo che questa precisazione della norma, appunto come dicevo prima, non è tale da ridurre il perimetro applicativo della stessa giurisdizionale laddove vedo difficile un'attività di consulenza legale, di consulenza legale appunto che non sia connessa all'attività giurisdizionale. Nonostante questi giri di parole contemplati nel comma 6 dell'articolo 2 della legge 247 del 2012, ritengo che questa previsione sia comunque una conquista alquanto importante nella misura in cui altre categorie professionali si sono viste e sottratte l'attività consulenziale quale attività cosiddetta riservata. Penso all'ipotesi dei dottori commercialisti in reazione ai quali, purtroppo per loro, l'attività di consulenza in materia tributaria può essere svolta praticamente da chiunque, anche che non sia iscritto in albi e quindi non eserciti una professione regolamentata. Noi abbiamo avuto questa fortuna che il legislatore della 247 del 2012 ha contemplato l'attività professionale di consulenza legale che non può, a mio modo di vedere, che essere connessa all'attività giurisdizionale, quale attività riservata agli avvocati. Quindi nel momento in cui la società tal dei tali, del gruppo assicurativo tal dei tali, pubblicizza consulenze gratuite anche, consulenze gratuite, mi sta chiamando qualcuno, chi è che mi sta chiamando? Massimiliano Paioni, perché mi chiami? Perché forse non riesce a vedere il live, mi scrivono che ci sono dei problemi per alcuni per connettersi. Infatti, scusa Maurizio, soltanto un intervento puramente logistico. Io accetto le amicizie che mi vengono fatte su Facebook, non so se questo è sufficiente, perché io ho una pagina... Forse non è neanche necessario. Allora guardate, adesso abbiamo modificato le impostazioni... Però se qualcuno non riesce a collegarsi con me, perché non gli ho dato l'amicizia, mi telefonasse e mi facesse uno scritto di telefono al 335-73-14-565. Vado a vedere il cellulare e confermo l'amicizia. Se è questo, capito? Perché non vorrei... Non è un accaparramento di clientela questo, stai dando il cellulare in diretta a Facebook. Non vorrei che qualcuno lo interpretasse come un accaparramento di clientela così, nascoste. Siamo tutti avvocati, non siamo solo avvocati in questa chat. Guarda, io vedo dalla diretta a Facebook che la stanno seguendo, 290 persone in questo momento sono collegate, quindi siamo in tanti, credo che la maggior parte delle persone riesca a vederlo tranquillamente. Quindi, tornando al discorso che stavo facendo e analizzando quest'articolo 2 della legge 247 del 2012,6, la problematica che rileva anche ai fini dissimilari è questa. Nel momento in cui l'avvocato utilizza canali non corretti e quindi utilizza metodi che non rispondono alla correttezza e al decoro, come il previsto dell'articolo 37 o in generale, ogni qualvolta un avvocato violi quanto previsto dal codice dentologico, abbiamo uno strumento che è la nostra giustizia domestica e quindi l'azione disciplinare esercitata dai consigli distrittuali di disciplina. La problematica invece, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 2,6 della 247 del 2012, è che laddove queste attività, quindi l'offerta di consulenza da parte di soggetti che non potrebbero offrirla, viene portata avanti, sfugge purtroppo all'azione disciplinare, nel senso che il consiglio di disciplina o comunque la giustizia domestica degli avvocati non può ovviamente agire nei confronti di un soggetto che non è all'interno della categoria professionale, rimane quindi soltanto da un punto di vista civilistico e anche ordinistico la diffida alla cessazione del comportamento e si potrebbero valutare poi eventuali profili di rilevanza penale, laddove ritenendo che l'attività sia un'attività riservata anche quella di consulenza, chi svolge attività di consulenza al di fuori della professione forense va in contrasto con l'articolo 2 della 247 del 2012 e quindi fa un'attività che invece è riservata a un avvocato, quindi a un professionista iscritto in uno specifico albo professionale. Questo per dire che dobbiamo essere tutti molto attenti perché l'attività di questi soggetti è attività che tende ad erodere le prerogative della professione forense, dobbiamo essere attenti, monitorare, segnalare a chi di dovere in modo che poi si possano prendere le opportune azioni la miriade di soggetti perché purtroppo non sono pochi questi soggetti che svolgono attività consulenziali, penso a varie associazioni di categoria, penso appunto come stiamo vedendo in questi giorni a società che sono emanazioni di grossi gruppi economici, sono molti i tentativi che cercano appunto di erodere questi spazi che ritengo siano evidentemente riservati a chi svolge una professione forense con tutti i lati positivi ma anche tutti i lati negativi che sono necessari per svolgerla. Quindi il rispetto del codice deontologico ripeto è fondamentale e ritengo che sia fondamentale anche e soprattutto in questo periodo storico, dobbiamo ancorarci ai nostri valori, dobbiamo ancorarci a quelle che sono le nostre regole e rispettare le regole se può essere più o meno facile in momenti semplici diventa forse più difficile quando i momenti sono complicati come effettivamente è complicato questo momento. Ma non per questo bisogna venir meno a quei principi. Quei principi che sono scritti in un codice deontologico ma dovrebbero essere scritti nel nostro DNA professionale. Cioè a me piacerebbe che il codice deontologico non dovesse mai essere aperto, che i consigli di disciplina non dovessero mai fare nessun procedimento. Mi piacerebbe che il rispetto di quei parametri che poi alla fine sono parametri anche di buonsenso professionale fossero un qualcosa che venga rispettato a prescindere e ripeto in forza di quel DNA che dovrebbe essere costituito dal semplice fatto di svolgere una determinata attività professionale. Purtroppo così non è, gli strumenti ci sono, tocca utilizzarli sperando comunque di utilizzarli nel minore. Chi è che sta chiamando? Stanno chiamando Gianni e guardate il numero. No ma non sono io. Non so chi è. Allora intanto sto condividendo sulle vostre pagine questo link di modo che forse si ampia la platea degli interlocutori. Complicata questa cosa. Allora, tornando, vado verso la fine, tornando a quello che è l'articolo 37, un'altra cosa interessante da tenere in considerazione riguarda le questioni economiche. Come leggevamo prima, dov'è che sta? Una prestazione personalizzata. Ecco, allora, un'applicazione pratica dell'articolo 37 e quindi una previsione di integrazione del precetto e di conseguente commissione dell'illicito disciplinare riguarda la parte economica dell'attività professionale. E riguarda, e questo ancora prima che entrasse in vigore la normativa sul cosiddetto ecocompenso, la questione dei compensi irrisori. Richiedere e comunque accontentarsi di compensi irrisori per lo svolgimento di attività professionale rientra nella previsione dell'articolo 37. Come si mette in relazione questa previsione, cioè l'eseguità del compenso con quanto previsto dalla legge 247, in particolare dell'articolo 13? L'articolo 13 prevede che l'avvocato possa esercitare l'incarico professionale anche a titolo gratuito. Verrebbe quindi da dire, vabbè, ma se io accetto un compenso irrisorio nella misura in cui l'articolo 13 della legge professionale mi consente addirittura di lavorare gratis, non vado a violare nessun precetto. Non è così, non è così. Quella previsione dell'articolo 13 della legge 247 nel 2012 rappresenta invece un precipitato, un condensato di quello che è invece l'anima più socialmente rilevante della professione forense, cioè quella di poter svolgere attività a titolo gratuito laddove venga svolta nei confronti di chi non può permettersi di pagare la prestazione di un professionista. Laddove quindi la gratuità sia motivata e giustificata da ragioni di rilevanza sociale, ma non certo da ragioni che consistono invece nel chiedere, nel pretendere un prezzo basso al fine di fare del dumping professionale e quindi appunto bisogna bilanciare la previsione dell'articolo 13 che prevede la gratuità, la possibilità di fare una prestazione a titolo gratuito con la previsione dell'articolo 37 che viene interpretata nel ritenere che pretendere accontentarsi di un compenso irrisorio rappresenta appunto una violazione del precetto dato dall'articolo 37. Per quanto riguarda, io vado avanti, non so come ci vogliamo dire. Maurizio scusate, grazie agli interventi di amici e colleghi che mi stanno dando delle informazioni su come far funzionare meglio questa diretta, quindi ringrazio Samuela Fazzolari, Francesca della mia compagna che mi ha dato ulteriori spunti eccetera, ho pubblicato sulla vostra bacheca il link di questa diretta, dovreste mettere sulla restrizione del link degli amici aperto a tutti, di modo che tutti lo possono vedere senza che ci continuano a scrivere che non riescono a vedere perché non hanno, però dai commenti che vedo nella chat privata di questa diretta, la maggior parte delle persone lo continuo a vedere e dico a Stefano che mi dice che sparisco continuamente perché vado a rispondere al telefono per rispondere a questi consigli che vi danno sulla diretta o per rispondere al perché non si vede. Quindi se riuscite a fare questo passaggio riusciamo a dare maggiore accesso. Parli di me anche Mario. A tutti e tre, ho mandato sui profili di tutti e tre il link di questa diretta. Sì, lo vedo, lo vedo. Ok, quindi se lo pubblicate la gente lo vede anche da lì. Ok, dicono che si vede bellissimo adesso, perfetto. Quindi ci dovremmo essere. Scusate se mi sono assentato. Lo condivido allora? Sì, mi dicevano che davanti all'ospedale di Bologna, leggevo in una delle chat che mi sono arrivate, ci sono addirittura già dei cartelli di alcune società private che fanno promozione di cause di responsabilità nei confronti dei medici, mentre dall'altra parte ho visto in altri ospedali ci sono le forze dell'ordine che quando entrano i medici sono con le sirene aperte per dargli il loro sostegno. C'è una bella differenza insomma di approccio tra l'una e le altre. Prego. Ma vabbè, questo è veramente il malatempora currunt verrebbe da dire insomma che la situazione è la situazione. Soprattutto se vogliamo considerare, scusate faccio un appunto, la normativa della legge Gelli Bianco che prevede una causa di responsabilità nei confronti delle strutture sanitarie in primis e in via sussidiaria nei confronti dei medici, è stata strutturata proprio per consentire ai medici di evitare di fare un uso improprio della medicina difensiva, farli lavorare tranquilli di modo che le prestazioni possono essere più console. Quindi se noi ribaltiamo tutto questo concetto in un momento in cui c'è una crisi di questo tenore andiamo comunque a ledere noi stessi perché i medici stessi non potranno che lavorare in una situazione di ulteriore precarietà e stress rispetto a quella che stanno subendo in questi giorni. Certo, ma da quel punto di vista lì la legge Gelli ha fatto proprio questa operazione, cioè in maniera tra l'altro anche discutibile proprio come tecnica normativa si è data una positivizzazione della natura della responsabilità. Noi siamo abituati a pensare in termini di principi generali e la definizione di un determinato tipo di figura giuridica viene fatta in relazione a quelli che sono i principi generali. Una legge che stabilisca che una determinata condotta è responsabilità contrattuale o responsabilità extracontrattuale non lo so, mi lascia un po' perplesso, però al di là di quello evidentemente l'intenzione del legislatore è stata quella di appunto sottrarre una categoria professionale a una responsabilità contrattuale che prevede come tutti sappiamo determinati meccanismi soprattutto per quanto riguarda l'onere della prova circa l'esatto adempimento che grava appunto sul prestatore. In quella norma la responsabilità del medico viene espressamente definita come una responsabilità extracontrattuale lasciando la responsabilità contrattuale soltanto alla struttura sanitaria. Ripeto, non è questa la sede per interrogarsi sulla tenuta costituzionale di una legge simile, è evidente che però alle spalle di questa norma c'è un intento diciamo così di garanzia, un intento di protezione nei confronti della categoria professionale che in questo momento visto l'andazzo, visto quello che si sta preparando con questi annunci che abbiamo di possibili azioni nei confronti del personale sanitario benvenga insomma una qualche forma di garanzia e di tutela che appunto concentri la responsabilità, in particolare la responsabilità contrattuale sulle strutture sanitarie piuttosto che sulla persona. Una nota prima di passare la parola a Pagli, la mattina c'era un articolo di un illustre giurista che noi tutti conosciamo per le cronache penali che diceva che sarà pronto, aveva già predisposto una denuncia querela nei confronti dello Stato in primis, poi delle strutture sanitarie indicando i medici come Tromboni e gli ospedali come inadeguati per l'organizzazione, una denuncia per i danni che hanno arrecato alla popolazione. Su questo fronte Gianni, cosa ne pensi da Presidente del Consiglio di Struttura e di Disciplina? Allora, si sente? Perché sono un po' lontano. Allora, Maurizio ha detto una cosa molto giusta sul suo intervento, che ha toccato tante cose quindi è un po' difficile riprenderle. Facciamo un dibattito, no? Sì. Soprattutto quando ha detto che la deontologia è qualcosa che attiene non tanto alla posizione di una norma, ma ad un impulso di etica individuale che dovrebbe essere superiore al testo scritto del codice deontologico. Perché poi il problema è questo, le norme deontologiche se lette, quando leggiamo decoro, con dignità, con mezzi, strumenti leciti, con strumenti non persuasivi, sono tutte norme molto generiche che poi vengono concretizzate nell'esperienza. È l'esperienza che crea la norma deontologica e la modella. Non è l'incontrario, non è la norma deontologica che viene posta come una norma penale a cui si deve modellare poi il comportamento, ma sono le esperienze di condotti individuali che poi piano piano diventano condotte e prassi collettive che si trasformano in norme deontologiche. Sono generiche, sono generali e sempre messe a dura prova sotto l'aspetto della loro tenuta. La pubblicità di cui parliamo oggi sostanzialmente... Gianni, scusami, mi chiedono di alzare il volume del tuo microfono. Allora mi avvicino magari un po', vediamo un po', scusate, vediamo un po', mi sa che c'era tutto alto. Si sente meglio? Io sento bene, adesso te lo dico, vedo i film. Mi avvicino io perché ho lasciato la barba dicendo che noia, che barba, che noia, ho lasciato la barba, non ci ho pensato più. Allora vi dicevo che la faccenda della pubblicità, che è qualcosa di particolarmente evanescente sotto l'aspetto anche della prassi quotidiana, è cambiata moltissimo negli ultimi tempi. Quando ci sono 240 mila avvocati, la pubblicità è uno strumento di concorrenza lecita, perché altrimenti si verrebbe a sclerotizzare, a cristallizzare delle rendite di posizione che taglierebbero fuori dal mercato del lavoro migliaia di avvocati, soprattutto i giovani. Quindi la pubblicità è stata sempre vista nel nostro ambiente in maniera molto negativa. Pensate che non più di vent'anni fa il Consiglio nazionale di Forense censurava quelli che nell'elenco telefonico mettevano in grassetto il numero di telefono. Come è cambiata la situazione. Poi è cambiata nel tempo, soprattutto anche in forza di normative extranazionali, comunitarie, in cui la pubblicità è vista come un momento di libero mercato e di tutela dell'utente finale. La pubblicità è vista come momento di scelta da parte dell'utente finale, che poi sarebbe il cliente, tra diversi professionisti che offrono qualcosa di diverso tra di loro. La pubblicità è stata cambiata. Il Consiglio nazionale di Forense è stato multato con un milione di euro perché il codice dentologico fino a qualche anno fa non permetteva la pubblicità, non la consentiva. È stato multato dall'autorità garante per il commercio, per il libero mercato e sono state cambiate le regole anche dal nostro profilo pubblicitario. Quindi la problematica attiene non tanto al momento della pubblicità, ma come diceva giustamente Maurizio, al modo in cui questo viene. Anche tu Mario lo dicevi. E chi è che stabilisce qual è il modo corretto? Non lo trovi nel codice dentologico, nel codice lo trovi soltanto qualcosa. Quindi è qualcosa che ha rimesso soprattutto al nostro buonsenso, alla nostra capacità di ragionare e alla nostra capacità di rendersi conto quali sono i limiti verso cui ci stiamo sempre dirigendo, quali sono i momenti che dobbiamo rispettare per noi stessi e anche per tutta l'intera categoria. E l'intera categoria, la volontà dell'intera categoria è poi manifestata dal Consiglio Distrittuale Disciplina che io presiedo qua nelle Marche, che detta delle regole, delle prescrizioni attuative di questi precetti generali, che sono molto vaghi. Non è proprio vero del tutto che i momenti non intervengono su queste regole. I momenti storici su queste regole intervengono. Vi faccio un esempio. Il nostro codice dentologico, e questo è quello che succede poi adesso, non consente le conferenze stampa, non consente all'avvocato di parlare dei casi di cui sta trattando. A meno che ciò non sia opportuno, necessario per la tutela degli interessi dell'assistito. Quindi se io vado in tribunale contro il giornalista e gli sparo di un caso, mi è successo questo, questo e il giornale il giorno dopo lo pubblica, io faccio una violazione disciplinare. Perché è una informazione che attiene all'informazione che io ho ottenuto, quindi sono riservate che poi le persone che vengono coinvolte nell'informazione che diamo sono sempre determinabili, sono informazioni riservate che non posso dare, a meno che non vi sia un'esigenza di difesa. Certo, se qualcuno mi attacca mi posso difendere, altrimenti non è possibile svelare, si viola il principio di riservatezza e del segreto. Ma non abbiamo mai sostanzialmente perseguiti queste situazioni, perché servono anche per cronaca giudiziaria, per fare in modo che un avvocato esprima anche quello che riesce a fare, o a volte si vede di titoloni, ho fatto assolvere questo, oppure magari non so, la causa, l'avvocato che intrattiene la causa contro questo. Oppure c'è gente che si fa fotografare addirittura mentre fa un atto giudiziario per poi farlo sul giornale e far mettere la foto sul giornale. Sono tutte cose che sostanzialmente a volte vengono tollerate e a volte no. Qual è il discrimine? Abbiamo avuto anche filmati. Abbiamo anche filmati. Ad esempio, quello che diceva prima Maurizio sulla responsabilità medica contrattuale, che quindi inverte il non reprobatorio, è presa a pretesto da alcuni avvocati che pubblicamente acquisite le cartelle cliniche delle persone che sono decine, perché poi facciamo causa, perché dovranno essere loro sotto il profilo contratto a dimostrare per evitare il danno. Questo è il messaggio che è assolutamente scorretto in questo momento storico. L'avete anche rilevato voi. In qualche altro momento potrebbe anche essere accettabile. In questo momento no. Per quale motivo? Perché tutte le norme vivono nelle situazioni. Adesso vi faccio un altro esempio. L'informazione di attività professionale, anche sotto il profilo dei prezzi, è legittima. È vero che non ci sono più regole specifiche sulla determinazione del compenso. Quindi può anche essere gratuito in determinate situazioni specifiche. Ma quando si stabilisce quando è il momento di dare un'attività gratuita rispetto a un'altra, uno può dire che per me è socialmente utile dire oggi alle persone che hanno a che fare con il coronavirus delle informazioni che io non voglio essere pagate perché ritengo che sia un'informazione socialmente utile. Non me la faccio pagare e quindi è una mia scelta. È una mia determinazione personale. È corretta questa determinazione personale. Oggi come oggi non sarebbe corretta. Perché comunque interviene in un momento che può mettere in crisi una situazione globale di emergenza sanitaria. Come quello di cui si è parlato prima. Altre situazioni di cui ha parlato anche Maurizio. Poi dopo le vediamo anche specificatamente. Poi se ci sono delle domande possiamo anche intervenire su qualcosa di più concreto. Le società che raccolgono, che concentrano e veicolano le consulenze legali. Ci sono. Ce ne stanno tantissimi. Sindacati ad esempio. Sindacati prendono i loro scritti associati e poi li smistano gli avvocati. È un'attività di intermediazione. Non si potrebbe fare. Non si potrebbe fare. Tecnicamente no. Perché manca il rapporto diretto con il cliente. Certo. Viene meno il rapporto fiduciario. Perché il sindacato o l'associazione prende il nominativo, prende la firma, la porta all'avvocato, all'avvocato alla causa. Ma anche il rapporto fiduciario che è il fondamento di cui si dice della nostra attività professionale. Anche altre cose. Le associazioni naturalistiche, le associazioni, le Ollus, che raccolgono tutto un insieme di grandi che poi hanno al loro fianco degli avvocati che si agevolano, che si avvantaggiano di questa raccolta di clientela. O anche privatamente creano delle pagine Facebook o di siti online per l'aiuto di coloro che sono vittime di questo e quell'altro. Sono private. Non c'è l'avvocato davanti, ma di dietro c'è l'avvocato che poi raccoglie tutta questa situazione e le promulga. Magari con conferenze stampa. Situazioni molto difficili da poter coordinare, soprattutto quando poi diventano situazioni difficili da manovrare, perché siamo così tanti che ogni situazione è impossibile da poter giudicare e valutare specificatamente. Conseguentemente noi oggi viviamo una situazione in cui la pubblicità, dobbiamo sapere che c'è la pubblicità, perché altrimenti le pubblicità diventano un po' pubblicità occulte. Una delle pubblicità occulte sono quelle della cristallizzazione delle esperienze e delle attività proprie. C'è l'avvocato anziano che lavora per la banca, che lavora per l'assicurazione e quindi non facciamoci pubblicità nemmeno sotto il profilo dei prezzi, perché questo potrebbe consentire a qualcun altro, magari più giovane, di poter accedere ad un'attività professionale che altrimenti gli sarebbe preclusa. Quindi anche il gioco del prezzo e anche un gioco potrebbe essere utilizzato sotto questa prospettiva. Si dice però che il prezzo non deve essere indecoroso, quindi gratuitamente per acquisire clientela. L'accapparamento di clientela. L'accapparamento di clientela non può essere fatto con forme non decorose. E quindi ritorniamo al momento storico. Cosa significa produzione non decorose? Oggi dei video mandato dagli avvocati che dicono, io parlo prima, adesso le situazioni non sono più attuali perché è cambiata la norma, non pagate il decreto penale di condanna, dire io proprio, l'avete visti anche voi, perché poi vi rimane, dovete invece venire da noi, vi facciamo l'oblazione, vi estinguiamo il reato, è un'attività illecita, per quale prima di tutto è un'informazione persuasiva e scorretta, perché non è vero, perché ad esempio quei decreti penali potevano essere opposti, ma l'oblazione non è automatica o come facevano credere, ma è facoltativa, quindi il giudice poteva anche rifiutarla, quindi è un'informazione sotto certi aspetti scorretta. Ma in questo momento che è necessario proseguire in un momento di solidarietà personale, collettiva, dire alle persone che sbagliano o che incorrono in un errore, non ti preoccupare, tanto ti salvo io, non ti succederà niente, è un messaggio scorretto che l'avvocatura non può accettare sotto il profilo dell'immagine pubblica che dà. Come qualcun altro successo anche nelle nostre parti, che appunto invita a prendere le cartelle cliniche, perché poi facciamo causa e vediamo di chiedere il risparcimento di anni, è un'attività che non è consentita in questo momento, perché contraviene a situazioni di immediata, di attualissima solidarietà di cui l'avvocatura è in qualche maniera responsabile, perché siamo noi coloro che sono i primi a interlocuire con le persone, con i loro interessi, con i desideri e con questi desideri, non possiamo esserne soltanto delle lunghe manuse e quindi degli strumenti per raggiungere qualsiasi tipo di finalità. Dobbiamo cuocerci questo problema, i consigli dell'ordine hanno fatto bene a fare quei comunicati, noi abbiamo fatto bene a aprire tantissimi procedimenti disciplinari in tutta Italia naturalmente, anche qui dalle parti nostre, ma che dovremo poi in qualche maniera disciplinare, verificare, portare a termine questo tipo di lavoro, che sinceramente io ho scritto in cinque anni 1300 esposti disciplinari, non è che mica una sciocchezza, guardarli tutti è una situazione abbastanza, poi un giorno se volete possiamo anche parlare più diffusamente. Quindi, rimandando eventualmente al dibattito che dobbiamo aprire, prima di tutto in questo momento la situazione attuale non consente una pubblicità che vada oltre il momento di solidarietà sociale, perché altrimenti sarebbe non decorosa, sarebbe socialmente disprezzabile, creare risultati di conflittualità con chi sta, tra l'altro, governando la nostra sanità. Beh, non male, poi lo vedremo, insomma, non è questo il momento. Poi le altre società che non professionali, che si offrono di dare consulenza, come diceva Maurizio, purtroppo su quelli noi non ci possiamo fare nulla, possiamo soltanto difenderci o con una denuncia per esercizi abusivi della professione di avvocato, oppure rivolgendosi, come abbiamo già fatto, al garante per la concorrenza sleale, perché diventa una vita puramente economica e quindi ricade sotto il profilo della verifica della sua legittimità. Questo si può fare, l'abbiamo già fatto, però su quelli noi non possiamo ovviamente assolutamente fare nulla. La consulenza legale, va da tempo, è ritenuta libera, non di esclusiva competenza degli avvocati e dobbiamo fare i conti anche con questo tipo di liberalizzazione. Concludo dicendo, parliamo di situazioni specifiche, di situazioni che oggi sono collegate a questa problematica del coronavirus, come ieri era una problematica o qualche altra al dramma sociale, domani sarà problematico anche per qualche altro dramma sociale. Un avvocato, ad esempio, ha chiesto al commissariamento del Consiglio della Cassa Forense, controgliendoci, è legittima questa cosa. Oggi come oggi si può dire tutto, le opinioni sono libere, ma devono essere sempre rapportate al momento storico che le interpreta. E noi siamo qui per interpretarle. L'unico problema, sapete qual è? Che non riusciamo a interpretarle in tempi adeguati, perché il nostro procedimento disciplinare è modellato sulla garanzia per l'incolpato. Quindi, se non ci si prescrive sotto mani, dobbiamo portare avanti un procedimento disciplinare che dura anni, possiamo agire in via cautelare soltanto se c'è una sentenza penale di condanna. E poi potete immaginare cosa significa questo. Quindi, ci siamo dati una giustizia domestica che funziona poco sotto questo aspetto. Non si può nemmeno cambiare, perché se cerchiamo di cambiarla poi ce la sottraggono e magari come Presidente del Consiglio Strettuale di Cipria non c'è Gianni Maraschi che è un avvocato, ci potrebbe essere Gianni Maraschi che è il Presidente del COVACONS, ad esempio. Maurizio ha usato benissimo queste cose. Quindi, concludendo, lasciando uno spazio anche a sentire anche Antonio Dell'Aiga cosa ha da aggiungere eventualmente, oppure da obiettare con quello che dico io, un momento storico delle prescrizioni che noi dobbiamo mantenere. E il decoro lo dobbiamo stabilire essenzialmente in noi stessi prima di tutto. nell'ambito della categoria e poi dare delle indicazioni, delle prescrizioni. Noi il Consiglio Strettuale lo stiamo facendo, però non possiamo passare sopra a delle situazioni che riguardano non soltanto un profilo puramente pubblicitario, ma che mettono in discussione l'immagine della categoria. È ritornata oggi, ho visto su Facebook, l'immagine dell'avvoltoio, dell'eguleio al voltoio, chi l'aveva fatta, non lo ricordo bene. L'ordine dei medici. È sempre dei medici, appunto quella roba. Insomma, se arriviamo a quello, già la nostra credibilità in qualche maniera è stata un po' erosa. Se arriviamo anche a quello, è anche peggio. Quindi il suggerimento è, cerchiamo di essere essenzialmente corretti con i stessi. Ogni volta che facciamo una cosa, ogni volta che facciamo una cosa, ci dobbiamo porre la problematica se la stiamo facendo bene. Questa è l'essenza della deontologia. Non è scegliere la risposta giusta o la risposta sbagliata. Perché nessuno ha il verbo e nessuno ha il crisma della verità. Se si può fare bene, si può fare male. E si fa bene quando si ragiona su una determinata cosa, si dimostra di aver messo in valutazione determinati interessi contrapposti, di averli ragionati, di aver preso una decisione corretta, di buonsenso, che abbia tenuto conto di tanti aspetti, di tante prospettive. La decisione è sbagliata quando si fanno le cose di impulso soltanto per aggiungere una finalità. E questo è l'errore che noi dobbiamo in qualche maniera immediatamente sanzionare. Volevo dire una cosa a proposito delle società che offrono servizi paralegali. Poi Antonio ci dirà come siamo intervenuti l'altro giorno con la Giunta nazionale nei confronti di una di queste. È vero che noi non ci possiamo fare niente, però innanzitutto come AIG abbiamo rivolto un appello agli avvocati che sono convenzionati con queste società di non accettare questo tipo di incarichi, in questo momento quantomeno. L'altra è una questione legata a una cosa che possono controllare gli ordini, cioè da quando è entrata in vigore la legge sull'ecocompenso i soggetti che sono coinvolti con sindacati, assicurazioni, i colleghi che collaborano con sindacati e assicurazioni, ma anche questo tipo di società, molto probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi, abbiamo verificato, hanno dei contratti che sono al di sotto delle tabelle ministeriali. Su questo il nostro ordine si è preso briga di dare una mano a questi colleghi per poter richiedere il giusto corrispettivo per l'attività svolta, ma ci sono altri ordini che sanzionano i colleghi che continuano a collaborare con queste forme di ecocompenso, perché sono sottoposte ad un richiamo e una sanzione disciplinare. Quindi questo collegato a questo tipo di rapporti, in questo momento storico e queste operazioni di sciacallaggio mediatico potrebbe essere un incentivo da parte degli ordini e quindi a porre una censura nei confronti di questo tipo di comportamenti. Trovate tra tutti gli interlocutori? Sì, sì. Attenzione, tu facevi riferimento alle società che offrono servizi paralegali? Che offrono servizi che rientrano nel settore legali, per cui problemi o queste qui di responsabilità, ricarciamento… Paralegali, paralegali, un'agenzia che ti va a fare un certificato di restituzione. No, 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 no. Quelle che offrono servizi che sono dedicati poi all'attività… Cioè è proprio un'offerta di servizi legali. Legali. Ripeto, ribadisco. Gianni diceva che l'attività di consulenza non è libera. Si poteva discutere sulla libertà dell'attività di consulenza fino all'entrata in vigore della legge 247 del 2012. La 247 del 2012 ci dice che l'attività di consulenza è attività riservata all'avvocato, a meno che non mi si venga a dire che esista un'attività di consulenza legale che sia svincolata da una anche futura attività giudiziaria. Quindi, ripeto, vedo un po' difficile la costruzione. Ma le società di consulenza infortunistica? Quelle, quelle. Quelle, secondo me, svolgono attività riservata alla professione forense. Hai proprio toccato l'esempio. Quelle, secondo me, non rientrano nella previsione della norma. Assolutamente. Cioè non è consentita quell'attività lì. La consulenza legale in materia stragiudiziale e quello che è finalizzata all'esercimento di danno, appunto, infortunistica, quindi circolazione stragiudiziale e quant'altra. Come fai a dire che è svincolata dall'attività giudizionale? Mi sembra un po' difficile. Antonio. Sì, ciao Mario. Scusate, hai visto un messaggio di Luca Pancotti? Sì, allora, io sto cercando di selezionare dei messaggi per delle risposte. Quelli che vedo che sono un pochino più costruiti rispetto a quelli che si salutano in chat, li pongo su questa slide. Intanto passo la parola ad Antonio, lo saluto, lo ringrazio per essere intervenuto, me lo sono perso. Eccolo. Ci siamo sentiti qualche giorno fa per avviare questa iniziativa legata da parte dell'Aiga per contrastare questa forma di pubblicità tramite le società. Ieri è partito sui social una sorta di dichiarazione di obiezione di coscienza da parte dei giovani avvocati, poi si è estesa ad un'ampia platea. È stata anche criticata da qualcuno, abbiamo anche con il nostro, il tuo predecessore, l'ex predecessore, insomma, di due miei famiglie che ne vai, racche a posto delle questioni legate a questo tipo di obiezione di coscienza, dicendo se portiamo in estremo questo tipo di ragionamento potremmo vedere delle persone, cioè diamo credito alle persone che dicono a perché difendere mafiosi o pedoperi, perché è un diritto costituzionale. In questo momento noi ci permettiamo di sentire con Michele perché il nostro punto di vista è diverso, è proprio legato al momento storico per cui non è che diciamo la pubblicità non va fatta o non va detto non facciamo cause dei confronti dei medici, è il momento storico che impone una pacificazione politica e lo vediamo anche tra maggioranza e opposizione che cercano comunque un dialogo per risolvere il problema del Paese, è una pacificazione sociale perché se no ci troveremo a una guerra tra professionisti e tra professionisti anche della stessa categoria. Antonio condividi questa linea? Sì sì Mario la condivido, intanto ti volevo fare i complimenti perché hai organizzato un evento virtuale che in questo momento è seguito da 415 persone, 416 persone, quindi davvero complimenti perché queste sono iniziative importanti soprattutto in questo momento dove tutti siamo costretti a stare a casa o comunque ad esercitare la nostra attività in modo limitato. È un tema naturalmente estremamente attuale, di grande interesse, su cui come hai ricordato tu Laika, grazie ad una tua sollecitazione siamo stati i primi ad intervenire, ad accorgerci di questi messaggi su Facebook, promozioni su Facebook che erano indirizzate a coloro che avrebbero potuto teoricamente subire dei danni da coronavirus, quindi risarcimenti rivolti al personale medico che in questo momento deve essere considerato un po' il nostro eroe, i nostri eroi, sono i nostri eroi e quindi in questo senso io credo che vada letta quella obiezione di coscienza a cui ieri tanti di noi hanno aderito. Io stesso ho aderito ieri mattina appena sveglio perché l'ho ritenuto anzitutto un segnale che noi avvocati avevamo il dovere di dare ai medici. Io ho tanti amici medici e in questi giorni li ho sentiti al telefono, li ho letti su Facebook, esprimere la loro preoccupazione per questi fenomeni che stavano avvenendo, per queste società che stavano promuovendo delle azioni legali nei confronti dei medici e naturalmente i medici poi se la prendono con chi? Se la prendono con gli avvocati, Gianni ha ricordato poco fa l'immagine dell'avvoltoio legato proprio agli avvocati che si fiondano su queste cause di responsabilità medica. Quindi il senso di quella catena, di quella che poi è stata una catena i nostri social di obiezioni di coscienza, chiamiamola così, credo che fosse proprio quello e che fosse da legare, come dici tu giustamente Mario, alla contingenza del momento. In ogni caso ricordo che ogni avvocato è libero di accettare o meno un incarico, non c'è un obbligo di accettare necessariamente un incarico e quindi dire serenamente che in questo momento io non me la sento, non me la sentirei di accettare un incarico di responsabilità medica nei confronti di un operatore sanitario che sta lavorando in condizioni difficilissime in queste ore, credo che sia assolutamente legittimo e ripeto se inquadrato come segnale di vicinanza al personale sanitario, come segnale di vicinanza ai medici, credo che sia stato giusto e corretto farlo. Dopodiché il diritto di difesa è naturalmente un diritto costituzionalmente garantito, ma appunto nessuno mi può imporre di difendere un soggetto che io non me la sento di poter difendere. Questo tema è un tema molto caro a Laiga, ne abbiamo parlato di recente come tu hai ricordato, ne abbiamo parlato già due anni fa quando il nostro componente di giunta Pier Fernando Panetta fece un articolo sul dubbio in cui parlò dei cacciatori di ambulanze. Io l'ho sempre trovata un'immagine molto efficace, quella dei cacciatori di ambulanze e purtroppo, come avete ricordato prima, molti sono i colleghi che svolgono questo tipo di attività. Spesso si trincerano dietro queste società paralegali, legali, di consulenza legale. Il punto secondo me non è soltanto questo, anche se è vero che poi da un punto di vista deontologico è difficile riuscire ad andare dietro, anche impossibile riuscire ad andare dietro ad una società che appunto non è di un avvocato. ma va rilevato però che alla fine, come tu hai ricordato giustamente prima Mario, visto che poi sei stato tu l'autore materiale di quel comunicato stampa che abbiamo fatto, e tu giustamente hai rilevato come poi queste società ad un certo punto si dovranno necessariamente appoggiare a qualche avvocato per svolgere un'immagine legale. Quindi noi a quelli ci abbiamo chiesto a quegli avvocati che solitamente collaborano con questo tipo di società, almeno in questa occasione di non collaborare con questo tipo di società. E questo al di là delle valutazioni che giustamente Gianni poi ha fatto, io vengo a dire una cosa, Mario Lontano, abbiamo girato l'Italia, ho girato l'Italia l'anno scorso con un format proprio sulla pubblicità nella professione forense, no? È un tema che a me ha sempre appassionato e ho conosciuto tanti presidenti di disciplina e devo dire la verità, Gianni è probabilmente quello che ha una visione più aperta di questo tema, perché io ho conosciuto tanti componenti o presidenti dei consigli distrettuali di disciplina che continuano ad affermare per esempio che la pubblicità nella professione forense sia vietata, che continuano a citare addirittura esempi a modello di presidenti degli ordini che richiamano i loro iscritti per la città, la targa troppo grande fuori dalla porta dello studio legale, insomma c'è anche molta confusione intorno a questo tema che è molta preoccupazione da parte dei nostri colleghi nel fare pubblicità, però ripeto sono due questioni a mio avviso che devono essere trattate separatamente, qui c'è a mio avviso una chiara violazione del codice deontologico, sia sotto il profilo dell'accaparramento della clientela, amante qualora non si riuscisse ad individuare un accaparramento di clientela in senso stretto, qua c'è senz'altro una violazione dell'archivolo 37, perché c'è una evidente violazione del decoro della professione, intervenire in un'emergenza sanitaria come questo, con un post su Facebook come quello che abbiamo censurato noi al di fatto che fosse o meno un avvocato a favore, io credo che sia evidentemente lessivo della decoro, della correttezza e del decoro della professione, quindi prima o poi ripeto questo debatto, pran rivolgersi ad un avvocato, ebbene quell'avvocato a mio avviso, visto che fa riferimento ad una società che in questo modo così illesivo del decoro e della correttezza ha agito, io credo che possa essere richiamato ed eventualmente anche sanzionato. Ripeto, questo non significa che la posizione in generale dell'Aiga sul tema della pubblicità nella professione forense sia una visione, diciamo un'interpretazione restrittiva, la nostra interpretazione, la mia interpretazione come noto è quella di un avvocato che peraltro fa pubblicità, perché come Mario sa bene io ho una pagina, un sito internet, una pagina Facebook su cui promuovo le mie attività, lo faccio nella piena convinzione di essere diciamo nel, di rientrare perfettamente in quelle che sono le disposizioni del codice deontologico, però anch'io che ho una visione mi verrebbe da dire moderna, ma non voglio dire moderna, una visione estensiva di questo tema, ritengo che quello che in questi giorni abbiamo visto è assolutamente deplorevole. Ci tengo però a fare una precisazione di fondo che anche il nostro amico Michele Vaira ha giustamente fatto. Michele che è uno che non le manda a dire, mi pare che abbia parlato di un manipolo di disperati, una cosa di questo genere. Ecco, io credo di poter dire che in effetti gli colleghi o presunti tali che si prestano a questo tipo di iniziative in occasione di sciagure, di tragedie. Oggi è l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, ma voi vi ricordate quello che accadde in occasione del crollo del ponte Morandi? Oppure quello che accadde in occasione dell'esplosione di un automezzo lungo l'automatica a Bologna un paio di anni fa, dopo pochi minuti, quando ancora non si sapeva se c'erano stati morti, quanti morti c'erano stati, quando ancora probabilmente i familiari non erano ancora stati avvisati del decesso di un proprio caro, alcuni nostri colleghi già si erano fiondati a proporre consulenza legale gratuita o non gratuita, non è questo il tema adesso, ma ad offrire consulenza legale ai familiari delle vittime. Ecco, ripeto, a mio avviso coloro che svolgono l'attività professionale in questo modo sono pochi, sono davvero pochissimi. Michele Vaira ha parlato di un manipolo di disperati, io non voglio parlare di un manipolo di disperati, ma comunque stiamo parlando senz'altro di pochissimi colleghi che però purtroppo, purtroppo vanno poi a ledere il buon nome di tutta la nostra categoria e quindi dobbiamo cercare di combatterli il più possibile, di sanzionarli qualora sia possibile farlo attraverso i consigli distrettuali di disciplina e per far capire che questo davvero nuoce a tutta la categoria e nuoce tanto perché quella iniziativa che io ieri ho preso di condividere quella obiezione di coscienza nasceva soprattutto dai tanti post che avevo visto su Facebook di tanti amici medici che lamentavano la scorrettezza dell'attività di alcuni avvocati, perché poi naturalmente chi non è del settore non distingue tra società legali, paralegali, parla genericamente e anche erroneamente di avvocati e quindi ci mette tutti in cattiva luce e di questi tempi non ce lo possiamo assolutamente permettere. Io direi che quando abbiamo fatto un giro, scusa, volevo dire ad Antonio che diciamo che come Aiga appoggiamo questo approccio estensivo alla formula di pubblicità e di marketing degli studi professionali, quando abbiamo fatto quei convegni in giro per il centro Italia diciamo con Gianni e Antonio mi piaceva cominciare quel convegno dicendo che comunque il brand è connaturato in noi, il branding è connaturato in noi perché tutti abbiamo un'immagine che ci portiamo avanti sin da bambini e l'immagine deriva dal tipo di comunicazione che noi facciamo, tutti si ricorderanno di noi perché eravamo dei bravi bambini, dei buoni bambini o a scuola perché eravamo i bravi o i cattivi. Adesso con questo tipo di comunicazione si etichetterà automaticamente il brand del collega che fa questo tipo di operazione pubblicitaria. Sì, Mario scusa un attimo, no no aspetta, aspetta, non vorrei che non sia stato poco chiaro su questo aspetto, è vero che io eravamo la così aperta della pubblicità per i motivi che dicevo prima, sono impulsi che vengono sotto il profilo comunitario, sovranazionale, non possiamo chiuderci dove le altre parti è in qualche maniera liberalizzato. Ci sono delle cose che devono essere riviste anche a garanzia dell'utente e a garanzia di chi si affaccia alla professione. Quindi la pubblicità, come dicevi tu, è un brand. Io però tiriamo per sempre presente che l'elasticità che posso dimostrare nei confronti di questo aspetto che mi può contraddistinguere dagli altri presidenti e i presidenti istrettuali, tuttavia poi diventa una soluzione rigorosissima quando ritengo che si vada al di là dei limiti consentiti. Perché io sono stato io stesso che ho sollecitato l'apertura di procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno speculato su queste situazioni di grave crisi sociale per promuovere un messaggio pubblicitario finalizzato all'accaparamento di clientela. Certo, certo, ma quello dicevamo, c'è una comunicazione decorosa. pubblicità, è un accaparamento strumentale attraverso strumenti noi riteniamo non decorosi e che levano l'immagine in tutta la categoria. E' qualcosa che va al di là della pubblicità, però dobbiamo stare sempre molto attenti a distinguere perché viaggiamo su un filo molto sottile, molto sottile. Dobbiamo essere attenti a non precludere la possibilità degli avvocati, di tanti a poter informare di pubblicizzare la propria attività professionale e il momento in cui invece ciò si va dall'altra parte e si sconfina nell'accaparamento abusivo della clientela approfittando di situazioni gravemente gravi sotto il profilo sociale. E questo non c'è nulla che possa giustificarlo. Mi stanno facendo delle domande su un altro aspetto di questa situazione particolare che non riguarda i medici in sé, ma ci sono delle offerte di prima consulenza gratuita o di attività professionale legate, mi stanno segnalando, a possibili sfratti per amorosità, non pagare lo sfratto perché c'è un'interpretazione della norma del DBCM che dice che è possibile non pagare lo sfratto. Sono usciti anche degli articoli sulle 24 ore, questioni legate alle sanzioni per chi viene preso in mezzo alla strada e gli viene fatta la contravvenzione per essere uscito e aver violato il decreto resta a casa. Su quel tipo di comunicazione come ci dobbiamo porre noi avvocati per essere corretti in una informazione nei confronti del cittadino? È una domanda aperta a tutti e tre. A tutti e tre? A tutti e tre? Ma guarda io ti dico, no, vorrei monopolizzare il discorso, Maurizio si può rispondere tu per primo come vuoi. No, per me il concetto stesso di prima consulenza gratuita è un accaparramento di clientela in contrasto con l'articolo 37. Tu puoi benissimo fare attività di consulenza, attività professionale nei confronti di un soggetto che non è abbiente e casomai non può avere il patrocino a spese dello Stato perché supera di un euro la soglia prevista dalla normativa per accedere alla patrocina e puoi benissimo non farti pagare perché ti rendi conto di avere davanti a te una persona che non è in condizione di pagarti, ma non deve essere pubblicizzato come prassi generalizzata. Prima consulenza gratuita, a mio modo di vedere, non è una cosa corretta. Ripeto, fare un'attività gratuito gratuito, conosci, ti chiede un consiglio, ti rendi conto che economicamente non è in grado di sopportare il pagamento di una parcella e non ti fai pagare, quello va benissimo, rientra tranquillamente in quello che prevede la norma, ma pubblicizzare la prima consulenza gratuita, a mio modo di vedere, è in contrasto con l'articolo 37. Ma perché? Perché è un discorso di carattere generale, non è un discorso specifico, tu nel caso concreto sei libero di fare quello che vuoi, di farti pagare quello che ti dà il decreto ministeriale dei parametri a rifare o anche di non farti pagare perché te lo consente la norma, ma dare come input pubblicitario di marketing che la prima consulenza è gratuita, tra l'altro non vuol dire neanche niente perché anche dal punto di vista di comunicazione commerciale la prima consulenza è gratuita, però dopo la seconda o quando mi dai il mandato per fare l'eventuale azione ti chiedo la parcella che intendo chiederti. Quindi è concettualmente sbagliato la generalizzazione del messaggio riferito alla prima consulenza gratuita, a prescindere qualunque sia poi l'obiettivo. Visto che ho catturato un attimo la parola, se posso fare un brevissimo intervento sulle tematiche che sono venute fuori. La questione… Mario, ma sono solo io a non sentire Maurizio Miranda o tutti insieme? Io non lo sento Maurizio, non lo sento più. Io lo sento. Ah, voi lo sentite? Io lo sento. Io lo sento. Io ho la mia linea. Sì, se te vai un po' a scatti, infatti ogni tanto forse la linea non ti prende. Questione della pubblicità. Ritengo che sia stato corretto il fatto di rimuovere il divieto che era previsto nella previgente normativa circa pubblicità. È corretto e giusto farsi pubblicità, però anche qui nell'ambito di quelli che sono i parametri previsti dal codice deontologico. Noi abbiamo assistito a colleghi, professori di ginnastica che nella loro carta è intestata, scrivono prof.av, francamente è una roba… 35, è un divieto espresso fabbito dall'articolo 35. Ci abbiamo avuto professori di ginnastica che si firmano professore avvocato, francamente questa è una cosa che non si affronta. Rientrando più nel discorso specifico e fermo restando un discorso di carattere generale che potremmo ricordurre al concetto di obiezione di coscienza, io in questo momento non mi sento di assumere nessuna azione nei confronti di una determinata categoria di soggetti, fossero i medici o fossero i proprietari degli immobili per quanto riguarda i canoni di educazione. Quello va benissimo, rientra nella scelta discrezionale del singolo che dice guarda no, io di questa tematica non me ne voglio occupare. Personalmente mi avevano chiesto di fare determinate azioni quando si parlava, non so se vi ricordate, mille anni fa delle questioni dei vaccini a favore dei Novax, io gli ho detto guarda io il ricorso non lo faccio perché secondo me questa cosa non ha senso, ma rientra, ripeto, nella capacità e nella discrezionalità che ha ognuno di noi nel assumere o non assumere un incarico. Adesso teniamo presente una cosa, non dimentichiamo una cosa molto importante, proprio anche in relazione a questa tematica. Noi siamo in una posizione difficile? Ok, noi siamo in una posizione che è quella di fare gli avvocati. Gli avvocati devono tutelare i diritti dei propri assistiti, d'accordo? Allora se in una determinata fattispecie c'è una responsabilità di qualcuno e quindi un diritto al risarcimento del danno da parte del nostro assistito. Noi se riteniamo che quella fattispecie esista e sussista e ci sia una lesione del diritto e quindi il diritto del nostro assistito a vedere l'isercito a quella lesione, noi abbiamo un'azione da intraprendere oppure ci tiriamo indietro perché per ragioni di coscienza, di opportunità, qualunque sia la ragione non riteniamo di dover prendere l'incarico. Ma non è tanto questo il problema, il problema è appunto l'assalto generalizzato in questo particolare contesto, quindi cerchiamo l'accaparramento di clientela per indirizzare un numero N di azioni giudiziarie nei confronti di una determinata categoria, è il concetto quindi di generalizzazione della cosa, perché noi non possiamo negare che ci siano situazioni meritevoli di una tutela giudiziaria e quindi ci sia un assistito, un cliente che giustamente debba adire un'autorità giudiziaria per vedere l'esercito a una propria posizione giuridica soggettiva lesa. Ma la cosa importante che spererei che venga fuori da questo contesto è il recupero della nostra figura professionale. Io sono uno di quelli che quando la nuova legge professionale ha abolito il patto di Quotalite, ho risultato, l'avvocato non deve essere socio del proprio cliente, l'avvocato deve essere autonomo, indipendente, compensato per l'attività che svolge, ma deve essere autonomo e indipendente. Questa autonomia e questa indipendenza noi la acquisiamo anche in che modo? Riappropriandoci del nostro ruolo di essere effettivamente il filtro tra la pretesa del cliente o del futuro cliente e l'accesso al sistema giudiziario. Noi dobbiamo riappropriarci di quel ruolo perché siamo noi i primi interlocutori, i primi soggetti ai quali viene proposta la domanda di giustizia. Si dice ti porto in tribunale, ti porto la giustizia, in realtà non è vero, io non ti porto in tribunale, io vado dall'avvocato e vedo se poi l'avvocato ti porta in tribunale. Noi ci dobbiamo riappropriare del nostro ruolo e dire alle persone che hanno effettivamente un diritto leso, sì, hai avuto una lesione al tuo diritto, ti posso assistere, queste sono le cose da fare oppure no, non hai avuto una lesione, non c'è da fare questo. Non dobbiamo fare cause a prescindere per fare numero nell'ottica dell'accaparramento di clientela e quindi dei grandi numeri, delle grandi masse di canalizzazione dei clienti. Noi dobbiamo riappropriarci del nostro ruolo che è quello di essere i primi interlocutori e i primi soggetti che hanno la capacità tecnica di scrutinare la situazione e di vedere se effettivamente c'è una lesione. A quel punto se viene da te una persona che ha avuto un danno da una condotta di un terzo e te riscontri che questo danno c'è effettivamente, cosa fai? O assumi la difesa e ti comporti in relazione all'incarico che assumi oppure dici no, mi dispiace per questioni mie di coscienza, ma quello che importa è prendere di nuovo il ruolo che la legge ci dà e che noi dobbiamo gelosamente custodire, che quello di essere veramente la prima istanza, noi siamo il presidio di prima istanza, il presidio di prossimità nei confronti del cittadino, perché ripeto, il cittadino che ritiene di avere avuto una lesione al proprio diritto, non va in tribunale, viene da noi e dobbiamo essere noi a dare una risposta che sia una risposta di scienza e coscienza sicuramente per utilizzare una terminologia del giuramento di Ippocrate e proprio dei medici, ma una risposta da un punto di vista tecnico-giuridico e quindi questo discorso va a finire a una questione ancora più ampia che è quella di non assumere incarichi per situazioni che riteniamo non siano fondate, cioè noi abbiamo una responsabilità come avvocati che è enorme proprio in funzione di quel ruolo di presidio di prima istanza al quale il cittadino si rivolge, il cittadino si rivolge a noi credendo di aver diritto ad un qualcosa perché non ha la capacità tecnica per capire le norme, capire come funziona il diritto, il diritto non è una cosa semplice, voglio dire, lo studiamo da anni e siamo ancora lì a farci domande, noi dobbiamo riappropriarci di questo ruolo e avere anche il coraggio di rifiutare un incarico quando riteniamo che la questione non sia fondata, che il diritto non ci sia, che la causa sia temeraria, ma non sto dicendo nulla di nuovo, è tutto scritto comunque sia nella legge professionale che nel codice ideologico, ma è fondamentale per noi riappropriarci perché soltanto se ci riappropriamo di questo ruolo riusciamo a dare a noi stessi e di conseguenza l'intera categoria professionale quella credibilità che meritiamo come professionisti e che meritiamo come avvocati che merita la nostra categoria. Gianni, ti sei scorsato? Mario, si vede anche qui? Sì, sì. In questo momento perché ho cambiato la stazione, siccome dove stavo prima prendeva male probabilmente lasciavo la linea ogni tanto, ho accesso il cellulare. Però l'audio è sempre molto basso. L'audio è sempre molto basso. Antonio, volevi rispondere anche tu a quella domanda? Io condivido il messaggio del Presidente Miranda, in questo momento noi in momenti come questi ci giochiamo una parte della nostra credibilità rispetto all'opinione pubblica, questo è il passaggio importante. Noi non ci possiamo permettere in questo momento storico di apparire come gli avvoltoi, quelli disposti a tutto pur di accaparrarsi un cliente, dobbiamo lanciare un messaggio chiaro, lo dobbiamo fare noi associazioni, lo deve fare l'ordine, quindi l'istituzione, lo devono fare i consigli distrettuali di disciplina, tutti, ma tutti l'abbiamo fatto, perché poi rispetto a questa vicenda di queste società che hanno fatto queste promozioni in questi giorni siamo intervenuti sostanzialmente tutti, dagli ordini allo CF, CNF, tutte le associazioni mi pare, quindi insomma devo dire che la levata di scudi è stata ampia e fa capire che la gran parte dell'avvocatura, la stragrande maggioranza dell'avvocatura è un'avvocatura sana che rifugge da queste forme di accaparramento della clientela e che coloro che invece si muovono con queste modalità sono pochissimi colleghi che vanno isolati, che vanno isolati, che vanno sanzionati e questo è il messaggio che noi dobbiamo lanciare all'opinione pubblica. L'avvocatura è sana, lo dobbiamo dire a tutti, in particolare in questo momento lo dobbiamo far capire ai nostri amici medici, ma lo dobbiamo in generale far capire a tutti perché se no quella perdita di credibilità e di autorevolezza di cui spesso parliamo è chiaro che non fa altro che essere alimentata da queste forme distorte di accaparramento della clientela. Scusa, Antonio, ti volevo dire una cosa, perfettamente d'accordo con te. C'è stato un collega che ha mandato un posto con il quale dice che c'è bisogno delle situazioni di malsanità, che facciamo? Dobbiamo lasciar cuore, lasciar perdere? Prima una risposta, dobbiamo darla a darla. Poi ho visto che c'era una signora che dice che noi dobbiamo prendere provvedimenti nei confronti degli avvocati che speculano su queste situazioni. Volevo dire a questa signora che l'abbiamo già fatto, può stare assolutamente tranquilla. Lei diceva, io ho il marito che tutte le mattine va in ospedale rischiando il contagio e queste manifestazioni ci accallaggiano, non le sopporto. Dovete intervenire sia pure tranquilla che abbiamo già... Il bello della diretta. Siamo già intervenuti su questo. Però questo ovviamente non è che significa una moratoria su tutto, il problema è di rispettare questo momento attuale di solidarietà di cui la nostra categoria è uno degli elementi essenziali e non dobbiamo assolutamente recedere da questa prospettiva e su questo penso che siamo un po' tutti d'accordo. Però sai Antonio, ti volevo dire una cosa. Ho avuto l'impressione, vedendo alcuni video soprattutto, che alcuni giovani avvocati hanno postato questi video dando informazioni su cosa bisogna fare per il decreto penale, per la sanzione amministrativa, in maniera quasi ingenua, con una trasparenza assoluta che mi ha fatto dubitare sulla strumentalizzazione consapevole. Mi è sembrato qualcosa che... Ma intanto Gianni, non sono solo... Avete visto quei video che sono girati con quella giovane collega che diceva, ma guardate il decreto penale, attenzione, è un procedimento penale, è una sentenza, quindi va iscritta sul casellare giudiziale, voi sarete quindi pregiudicati, avrete la possibilità di avere un precedente penale, quindi non pagate. Questa era un'informazione, secondo me lei voleva dare un'informazione su questo. Poi dopo quando alla fine ci scrive però, ma se volete ulteriori informazioni, questo è il mio numero di telefono, allora tu offri un'attività professionale a persone indeterminate. A quel punto scatta un po' la differenza tra un'informazione che tutti possiamo dare. Allora ti faccio una domanda, tu sei d'accordo che un avvocato possa scrivere su Facebook? La situazione è, la sanzione amministrativa oggi prevista è questa, queste sono le conseguenze e tenete presente che sarebbe il caso di non pagare perché magari c'è la possibilità di fare la conciliazione, di pagare in misura ridotta. Queste sono attività informative che possono essere anche date in via nominativa, cioè Tizio e Caglio dà questa informazione al pubblico. Sotto questo aspetto non è vietato dalla nostra banca, cerchiamo sempre di distinguere l'abuso e la speculazione rispetto al fatto informativo perché altrimenti rischiamo di passare da una parte all'altra la barricata senza nemmeno renderci conto. Sì sì, ma infatti il problema è che spesso non ci si rende conto di superare il limite, questo perché come tu hai ricordato prima, se da una parte il codice deontologico all'articolo 35 disciplina delle fatti specie, per esempio quella dei professori che non sono professori universitari e che però invece si freggiano del titolo di prof, quello è espressamente previsto, è espressamente vietato dal codice deontologico. Dopo naturalmente il codice deontologico come tu mi insegni non riesce ad individuare tutte le fatti specie e lascia anche un certo margine di discrezionalità ai consigli distrettuali di disciplina nello stabilire cos'è la correttezza, cos'è il decoro. Io questo non per giustificare quei colleghi che quel decoro, anzi che quella correttezza o quel decoro oltrepassano, però forse ci si dovrebbe iniziare ad interrogare, ma non è questo il momento naturalmente, ma la butto là come ipotesi di ragionamento, perché se ne parla qualche volta nel corso di questi dibattiti, di iniziare a ragionare se non è il caso di individuare espressamente tutte le fatti specie vietate. È difficile, è difficilissimo, forse impossibile, però a volte io mi rendo conto che c'è davvero una inconsapevolezza nel violare il codice deontologico quando parliamo di queste cose proprio perché il codice deontologico a volte non chiarisce, non specifica cosa significa violazione del decoro e quindi si tende a o il concetto stesso di accaparramento della clientela che si presta ad interpretazioni estensive o restrittive e quindi ripeto, non per giustificare. La ricerca della clientela non è viettata, l'accaparramento è molto complicativo e il discrimine non è sempre molto semplice da individuare. Esatto, proprio per questo, è che il discrimine non è semplice, per cui non voglio ripeto fornire giustificazioni ma a volte davvero c'è un po' di inconsapevolezza nel promozione di rimuovere alcuni tipi di azioni che naturalmente non mi vedono a favore, però ripeto non c'è sempre cattiva fede, ecco, non c'è sempre mala fede. A volte lo si fa... Questo te lo posso dire anche io, nella mia esperienza ormai sono cinque anni e mezzo che fa questa funzione, ti devo dire, posta prima dicevo di essere molto attenti anche a valutare il ragionamento che si è fatto e se c'è stato il ragionamento e se può essere in un aspetto proprio puramente deontimologico, perché una persona potrebbe dire ho sbagliato, mi dispiace, ritiro quello che si è fatto e pur avendo sbagliato ho ragionato in maniera non corretta, però ecco, noi non siamo qui per punire, anche per le nostre condizioni, le condizioni che ci stai arrivano in maniera non corretta, non è che sia una cosa molto significativa, no? Si perde il momento dell'insegnamento degli altri, quindi bisogna essere immediatamente consapevoli di indirizzare la nostra categoria, per questo che vale molto di più sulla base degli insegnamenti che diamo noi dei consigli distrettuali, quello che ha fatto il Consiglio dell'Ordine di Ancona, quello che hanno fatto anche altri consigli d'Ordine, pubblicizzando la nostra linea e tendenza, quali sono le nostre intenzioni, le modalità con cui svolgiamo la nostra attività, per dare un'immagine che altrimenti potrebbe essere spostata da tutti gli episodi, da alcuni episodi, ovviamente non significativi sotto il profilo dell'intera categoria, quindi questo è un po', bisogna essere sempre molto cauti nell'orientazione delle situazioni. Signori, io direi che possiamo sciogliere la seduta, visto che abbiamo fatto un'ora e mezzo di diretta e come nelle migliori tradizioni dei seminari che organizziamo vedo che c'è stata molta gente collegata ed assidua ed ha partecipato con domande e interventi sulla chat, quindi ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza innanzitutto di connettersi con i primi momenti di problematiche legate alla connettività del video in diretta e poi hanno seguito il nostro dibattito. Ringrazio il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocato di Ancora, Maurizio Miranda, Antonio De Angelis, Presidente dell'Aiga Nazionale, Gianni Marasca, Presidente del Consiglio di Disciplina. Mi riporto alla fine dei due messaggi che sono stati pubblicati sia dall'Aiga Nazionale che dall'Ordine degli Avvocati per dire che l'Avvocatura è solidale e ringrazia gli esercenti della professione sanitaria per questo lavoro che con la delegazione stanno portando avanti in questi giorni. Lascio le conclusioni per un breve saluto ai tre Presidenti e poi chiudiamo la diretta. Grazie a tutti per la partecipazione. Quale parte prima? Prego Presidente. Sono i Presidenti, Maurizio. C'è un messaggio sotto di Alessandro Pagnini che dice però attenzione che il messaggio della collega di Brescia era sbagliato anche nei contenuti normativi. È vero, infatti l'ho detto inizialmente, che quel messaggio era sbagliato quando assicurava l'automatismo dell'oblazione, che invece non era automatica ma era un'oblazione facoltativa, che il giudice poteva eventualmente in sede di opposizione rigettare e poi magari fare il giudizio immediato. Quindi una persona che pagava una multa, un'ammenda di 450 euro si trovava a giudizio rischiando anche l'arresto. Quindi era sbagliato anche sotto il profilo della correttezza normativa e questo l'ho rilevato subito e ai consigli distrittuali e disciplina di Brescia siamo subito intervenuti sotto questo aspetto qua. Perché non solo era un messaggio scorretto sotto il profilo informativo e pubblicitario ma anche scorretto sotto il profilo informativo. Allora lì si era mescolata un po' tutta la situazione, un insieme di cose assolutamente inaccettabili e sulle quali non bisogna assolutamente passare sopra. Questo è il mio messaggio. Ringraziando Maurio, te e l'Aiga, io poi con l'Aiga ho un rapporto molto stretto di cui ho fatto parte sin dall'inizio. Quindi grazie a voi, grazie a voi di questo video. Anche io! Eh, perfetto, tutti insomma, tutti ex Aiga, poi non è questo, insomma, ci facciamo autopubblicità. Io non ne posso più far parte, va bene. Sono i soci onorari, Mario lo sa. Quanto non conta più niente, diventa onorario, è questa la realtà. Quindi grazie a tutti voi. Guarda, Gianni, l'alternativa socio onorario è socio sostenitore, per cui fai il socio sostenitore, va benissimo. Non si è sentito bene, in questo momento è andato via un attimo l'audio. Senti, Mario, io ti ringrazio ancora davvero perché credo che sia stato un bel momento di compronto e visto che ci sono tanti colleghi dell'Aiga in linea, li vedo qui dalla chat, voglio rivolgere un invito a tutti ad organizzare questo tipo di eventi, perché in questi giorni credo che possano essere davvero molto molto utili. Non soltanto su questo tema, ma tanti sono i temi che possono essere affrontati e davvero hai dato un bel segnale. Bravo, Mario. Grazie, grazie a voi. Se posso, proprio a chiusura, l'ontologia è qualcosa che va a braccetto, mano nella mano, con la dignità. Nello svolgimento della nostra professione pensiamo, ogni volta che facciamo qualcosa, alla nostra dignità e se penseremo alla nostra dignità sicuramente non andremo mai in contrasto con le norme del codice odontologico. Se pensiamo alla nostra dignità rispetteremo sempre la odontologia. Grazie Mario, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie.